Mi chiamo Alessandro Bianchi, sono area manager per quanto riguarda Contec, l'azienda Contec per quanto riguarda la regione nord-ovest. Oggi siamo qui in SIEC semplicemente per presentare quelle che sono le novità Bacco. Chiaramente ClickShare è un prodotto già comunque sia noto, consolidato, innovativo, ma oggi presentiamo il mini ClickShare, che a differenza del ClickShare classico ha la possibilità di fare due visualizzazioni, fino a un massimo di otto, però una visualizzazione alla volta, mentre differisce dal ClickShare classico che posso visualizzare fino a quattro immagini contemporaneamente. Fondamentalmente SIEC è una bella vetrina per poter, tra virgolette, poter trattare direttamente i system integrator, che sono già nostra parte integrante della database di clienti, ma allo stesso tempo è un'opportunità per confrontarsi con quelli che sono gli altri brand, contattare direttamente dei nuovi brand e quindi è un continuo confrontarsi su quelle che effettivamente possono essere delle novità, per esempio anche a livello di informazione sul mercato delle singole persone. Noi siamo qui presenti come Contec anche grazie a Geffen, nel senso che Geffen è la nostra rappresentata, e ha lo stand qui a fianco. Diciamo così che sicuramente SIEC quest'anno è molto migliorato rispetto in termini di presenza, rispetto all'anno scorso, e quindi siamo confortati del fatto che probabilmente anche il prossimo anno, visto i segnali che ci hanno dato quest'anno, può, tra virgolette, essere migliorato anche per il prossimo anno. Grazie a tutti.